Il nostro cagnolino è morto poco dopo la sua passeggiata pomeridiana lungo via Carpineto nella zona di Valmaura. Ha iniziato a vomitare e ad essere oggetto di convulsioni. Il veterinario ha confermato trattarsi di sintomi compatibili con quelli di abbelenamento da strichnina. E la testimonianza della padrona di uno dei due cani morti a Valmaura a distanza di sette mesi, giugno 2018-gennaio 2019, l'autopsia effettuata sul cadavere di uno degli animali ha evidenziato tale possibilità senza tuttavia escluderne altre. Sul secondo cane sono in corso accertamenti. Alcuni sostengono sui social che i casi siano addirittura otto. La polizia locale tramite la pagina facebook Agente Gianna invita tutti i proprietari di cani nella zona di Valmaura a prestare la massima attenzione in merito a bocconcini o alimenti sospetti. Inoltre la polizia locale invita i proprietari di cani a informare il loro veterinario in caso di malessere o nella peggiore delle ipotesi di un decesso anomalo del proprio animale. Grazie. Grazie.